Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Livorno e il suo porto di Alessandro Brunetti Quarta puntata Il tentativo più arduo di Cosimo I fu la costruzione del nuovo porto, da lui meditato silenziosamente per anni e messo in cantiere nel 1573. Gettare in mare aperto un molo che congiungesse la terra con la torre del fanale, fondare parallelamente alla terra, pure in mare aperto e senza ridosso di sorta, un altro molo per chiudere un vastissimo specchio di acque, era con i mezzi tecnici del secolo XVI impresa da spaventare chiunque per il suo costo e per le sue difficoltà. Ma Cosimo I non ebbe esitazioni. Raccolse i mezzi d'opera, iniziò e fece portare innanzi con decisione instancabile l'affondamento di massi e in alcuni punti anche di vecchi bastimenti fuori uso carichi di pietre. Le operazioni progredirono notevolmente nel braccio che avrebbe dovuto congiungere il fanale alla terraferma e che avrebbe difeso il nuovo porto dai marosi di Libeccio. Ma i lavori, iniziati sul progetto del Buontalenti, presentarono gravissimi inconvenienti. Le alghe, abbondantissime in questa zona, trovando poco per volta chiuso il passaggio, nel loro transito prodotto dalle correnti si addossavano alla diga di Libeccio, costituendo con il loro lento processo di putrefazione una seria minaccia per la salute pubblica e una minaccia per il porto stesso. Fu così che i lavori dovettero essere abbandonati. Tuttavia, con l'impiego di 1500 operai, benché il progetto del nuovo porto incontrasse tutte queste difficoltà, poteva crearsi quella linea denominata Andana degli Anelli. Francesco I, succeduto al Granduca Cosimo I, fu considerato da alcuni un avaro, un tiranno, un imbelle voluttuoso, senza rilievo sia nell'attività politica che in quella economica. Da altri, invece, fu stimato per il fatto che seppe provvedere all'avvenire della Toscana in un momento molto travagliato della vita europea. Quando il Papa Assisto V paralizzò artificiosamente la circolazione del denaro in Italia con danno per i commerci, Francesco I non esitò ad aprire il porto di Livorno a tutte le nazioni, valorizzando così lo scalo labronico. Sempre più distaccata dalla vita e dalle condizioni economiche della Toscana, Livorno diviene un mercato di deposito sulle linee mediterranee percorse da navigatori stranieri. Città ricca in una regione povera, abitata da mercanti a corsi per far soldi, pronti a ripartire non appena esaurite le fonti di ricchezza, ma Livorno era comunque ancora un povero borgo con un porto limitato. Il Granduca comprese la necessità di ampliarlo e di trasformare il borgo in città. Il 28 marzo 1577 si iniziò con solennità e pompa magna la posa della prima pietra, proclamando Livorno città. Iniziate le costruzioni edilizie stradali, Francesco I rivolse la sua attenzione anche al porto, riprendendo la traccia lasciatagli dal padre e ne affidò la direzione al buon talenti e ad Alessandro Pieruni. Ma nel 1587 i lavori dovettero essere ancora abbandonati. Livorno era sempre afflitta dalla malaria, il porto non bastava per i traffici che si svolgevano in mare aperto, poco protetti dal ridosso delle secche della Meloria. Nel 1582, quando la peste funestò la Toscana, grazie all'azzaretto fatto costruire da Francesco I al Fanale, fu possibile evitare mali irreparabili allo scalo e all'emporio livornese. Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Radio Flash e Livorno pizza innamor fianco e svil纠 mandatine e endMC ragazzi all'azabetto smackere